Resterà chiuso per quattro mesi il ponte sul fiume Alento a Francavilla al mare, parto nei lavori dedicati al rifacimento dei marciapiedi, ora pressoché inesistenti, sul tratto di Nazionale che attraversa il fiume. Un intervento lungo e costoso, ma che promette di risolvere i disagi e la situazione di pericolo per chi attraversa quotidianamente quel tratto di strada a piedi o in bicicletta. L'intervento sul ponte sul fiume Alento, che dovrebbe terminare a luglio, fa parte del progetto a piedi sicuri, grazie al quale Francavilla, comune capofila, ha ottenuto un finanziamento di quasi 400 mila euro da destinare al rifacimento del ponte. I lavori inizieranno subito dopo Pasqua, martedì 29 marzo, sono stati affidati tramite gara alla ditta Primavera Florideo e rendono necessaria la chiusura del tratto di Statale 16, compreso tra la rotatoria di via Pola e quella di via della Rinascita. Pertanto il traffico verrà deviato nella zona dello stadio Valle Anzuca, ma saranno praticabili anche il lungomare e le vie parallele.